Il nostro lavoro è di essere il più onesto possibile, che è fare capire che il cammino è difficile, il cammino è lunghissimo e difficilissimo, e che se non hanno questa esigenza non è una possibilità di fare qualcosa in questo destino. E speriamo che il messaggio che siamo venuti a dire nel passato. Penso che c'è un'energia e una voglia di fare bene a tutti questi ragazzi che mi hanno molto piaciuto. E si vede che vogliono imparare e andare più lontano, e questa è veramente una soddisfazione bellissima. Non si vede molto quando giriamo il mondo, a questa bellezza nel fondo della gioventù che abbiamo visto qui. E penso che Aiso fa un lavoro incredibile con questi giovani, da dare l'esperienza, ma non è abbastanza l'esperienza, anche i strumenti per andare più lontano. e spero che ogni giovane capisca che è anche della loro responsabilità di prendere tutto questo molto molto in serio per andare più lontano. e ringrazio Aiso per quello che fa la maestra Teresa per il suo lavoro incredibile. Grazie a tutti.